Ti sei mai chiesto dove fosse finita Chiara Ferragni? Dopo giorni di silenzio, l'icona digitale è tornata con un messaggio dolcissimo che ha commosso i suoi fan. Sei pronto a scoprire cosa ha detto? Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e lasciare un like al video per restare aggiornato su tutte le novità. La scomparsa di Chiara Ferragni dai social aveva sollevato molte domande tra i suoi follower. Le polemiche legate alle uova di Pasqua e l'attesa decisione dell'antitrust avevano alimentato la curiosità. Tuttavia, la verità è molto più semplice e dolce, Chiara era a Palma di Mallorca per celebrare l'addio al nubilato della sua migliore amica, Veronica Ferraro. Chiara è tornata sui social con una serie di foto e un messaggio commovente, descrivendo i momenti di gioia trascorsi con le amiche. L'addio al nubilato della mia migliore amica, ha scritto, condividendo immagini piene di sorrisi e complicità. Il ritorno di Chiara ha portato anche un'ondata di emozioni, grazie alle parole dolcissime scambiate con Veronica. Esserci. Ognuno con la propria vita, ma senza perderci mai di vista, ha scritto Veronica, a cui Chiara ha risposto con un semplice e toccante e per sempre, accompagnato dall'emoticon dell'infinito. Cosa ne pensi del dolce messaggio di Chiara? Lascia un commento qui sotto e facci sapere la tua opinione. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento e di lasciare un like se hai apprezzato il video. Grazie per aver guardato.